Aveva solo 18 anni di età, si chiamava Ivana Smith, era olandese, si è spenta purtroppo da come si legge su internet in situazioni in circostanze misteriose. Il cadavere è stato trovato nel balcone del sesto piano, sarebbe caduto dal ventesimo di un hotel che si trova nella capitale del Kuala Lumpur, ci troviamo in India. Stanno indagando ovviamente i poliziotti, quindi le forze dell'ordine, per cercare di dipanare il mistero che avvolge la morte di questa giovane ragazza. Era una bellissima ragazza, sensuale, era una modella, trovata tutta nuda, si è avvicinata dal balcone purtroppo e sarebbe caduta, si sarebbe schiantata su un tendone del sesto piano ripeto. Però non si può credere che sia caduta, così fa sapere la polizia, il corpo infatti è stato ritrovato lì nudo, dove sono le scarpe ed anche la biancheria intima. Questa invece era la domanda che si sarebbe posto il nonno, che ovviamente è rimasto scioccato dopo aver appreso la notizia della ragazza, della nipote, purtroppo spentasi a soli 18 anni di età. Lavorava, vi ricordo, per Chanel, per altri diversi marchi di abbigliamento, stava facendo una festa la notte prima e in buona sostanza era passata la notte anche con degli amici. Adesso ripeto che la morte di questa ragazza è avvolta nel mistero più assoluto che esista, speriamo di trovare la verità, di fatti speriamo che qualcuno ci riesca a far sapere di effettivamente di cosa è morta la povera Ivana Schmidt, precipitata nuda dal ventesimo piano di un hotel a Kuala Lumpur in India. Grazie a tutti, il video termine acqua, Ivana riposa in pace, Amen.